sono andrea berti coltellinaio di quarta generazione a scarperia dunque la nostra una lunga storia di ferro di fuoco di mani sapienti da quando nel 1895 il mio bisnonno david berti iniziò dopo aver fatto il garzone nella bottega di un coltellinaio a lavorare per conto proprio successivamente ha continuato il mio nonno poi mio padre adesso io ma in azienda ci sono già i miei figli quindi la quinta generazione di coltellinaio berti a scarperia la produzione fino a tutti gli anni 50 è stata concentrata sulla produzione di coltelli da tasca coltelli molto economici molto semplici molto robusti molto taglienti destinati all'uso nei campi da parte dei contadini negli anni 80 quando io sono entrato nella bottega di famiglia mi sono reso conto rapidamente che quel tipo di mondo quel tipo di utilizzo del coltello si avviava oramai alla scomparsa l'idea è stata quella di proporre questi coltelli come elementi di testimonianza culturale destinati a chi è appassionato a chi ricerca nel coltello un po del nostro passato chiaramente ho affiancato anche coltelli da cucina e coltelli da tavola le lavorazioni alle coltellerie berti sono state sempre totalmente artigianali chi inizia un coltello lo finisce e ci mette sopra le sue iniziali quindi un prodotto artigianale nel senso più alto del termine ogni coltello è diverso da un altro abbiamo naturalmente privilegiato la scelta di materiali estremamente selezionati sia per quanto riguarda il corno sia per quanto riguarda i legni sia per quanto riguarda gli acciai curando nei minimi dettagli tutti i processi produttivi dunque ogni nostro prodotto è un prodotto totalmente made in italy anzi direi totalmente made in scarperia a 30 chilometri da firenze nella nostra magnifica toscana e tutto è prodotto e fatto da noi internamente a 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 Grazie a tutti.